Le ragazze dell'Acqua Chiara Under 15 hanno vinto quest'anno il campionato di categoria e sono l'unica squadra giovanile e femminile della nostra città che si è riuscita a conquistare uno scudetto di pallanuoto in 30 anni, ovvero da quando ha avuto inizio la storia di questa specialità a Napoli. Con una cerimonia tutta riservata a loro, ieri sono state premiate con una medaglia a Palazzo San Giacomo dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Franco Porzio, fondatore e presidente onorario della società, ha ricordato che la squadra è composta da ragazze che vivono nell'area nord di Napoli, il territorio in cui si allenano e che proprio quella zona sta diventando un vero polo acquatico ed il sindaco ha evidenziato come lo sport stia continuando a diventare sempre più un'eccellenza della città e che quando soprattutto in zone così difficili si danno punti di riferimento ed un'alternativa valida ai giovani, i risultati non mancano mai.